salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo nel secondo episodio di blow stars andremo a fare qualche missione con qualche personaggio vediamo prima che cosa c'è sono nuovi eventi e quel vento è gratuito possiamo anche sbloccare il brawler eccolo qua abbiamo sbloccato il cester ragazzi adesso dobbiamo scegliere il brawler da sbloccare nel prossimo obiettivo scegliamo ambra ci sono altre ricompense gratuite 700 monete più 80 aggettoni vediamo le missioni da fare abbiamo un mission in sopra il mezzo solo e andiamo a fare poi abbiamo missioni anche con questo personaggio e va bene così andiamo nella prima partita è cambiato lo stars a quel che è vero hanno fatto un aggiornamento in effetti è cambiato tutto però già è morto oh mio dio ci ha fottuto tutti i palo e questa è vabbè non potevamo fare niente prima partita è andata così però vabbè terzo posto alla fine il problema è che questo brawler è lento a distruggere le casse ma io non l'avevo visto questo col demonio ma vabbè è andata così ecco qua ci ha fottuto il gel power adesso l'ho fottuta io però questa non diciamo parolacce che è meglio oh mio dio un colpo ti devo tirare io devo tirare un altro colpo si scappa scappa cotardo adoro avevamo ucciso ora quell'altro dove è finito ecco qua sotto io ti frego io ti frego vabbè ma bene va bene dai 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 spaspa ossì sì abbiamo vinto e che vittoria allora con questa già cominciamo malissimo anzi dove è finita già si è nascosta qua dietro ma questo vuole fregare me voleva fregare me ma non è riuscito per fortuna come c'è finito questo qua dentro il problema enorme questo vabbè ero circondato dove mi giravo mi giravo mi incidevano per forza oh mio dio ma questo con i palloncini rompe proprio i cosiddetti ma nessuno è capace di ammazzarlo questo c'è non dico io ma tutti con me me lo dovete prendere vado finalmente dove vai tutto vero e non è possibile almeno i power e riprendo ma come io pensavo di averlo ucciso vabbè facciamo finta di niente grazie che mi hai aperto le casse ma pure la linea ci manca va bene dai 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 un colpo li devo tirare non ci voglio credere non ci voglio credere quello che è appena successo se non saltava l'avevo ucciso appena cominciamo le partite le cominciamo sempre in modo molto tranquillo noi le partite le cominciamo si si partite da bambini noi facciamolo ucciso è incredibile oh cos'è è incredibile mi ha pure preso con il fuoco ma non ci voglio credere quello che sta succedendo ma io mi butto addosso ti ucciso guarda oh non morire salvato per un bello cacca no non era previsto questo quando dovrebbe saltato fuori questo qua vabbè l'importante è che sono arrivati i terzi al giorno di lido perché veramente guarda già subito in mezzo alla miscuglia qui che non ci capisci più niente là dentro ce n'è uno qua dentro ce n'è uno incredibile ma quello è uscito da qui è ancora qua dentro a me non prendo manco un power così vabbè dovremmo stare con un solo power up almeno l'ho ucciso questo dove è finito quell'altro ora era meglio che non lo cercavamo vabbè questa partita l'abbiamo cominciata proprio come il K proprio come il K non dico più niente questi sono i crediti guadagnati abbiamo fatto tanti obiettivi perché abbiamo fatto tante missioni nel frattempo altri 95 40 di quelli cromatici altre monete che servono altre monete possiamo migliorare un power uno solo va bene miglioriamo questo possiamo migliorare anche questo va bene livello 2 livello bassissimo direi niente ragazzi per oggi direi che va bene così queste partite sono state alcune belle alcune non ne parliamo proprio però l'importante è che alla fine abbiamo guadagnato qualche coppa e anche qualche missione l'abbiamo fatta e niente ragazzi ci vediamo con la prossima puntata di Dual Stars ciao 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 ciao